Facciamo due esempi di applicazione del teorema che abbiamo appena dimostitato. Allora, prendiamo la funzione y uguale e alla x Allora, dico che questa funzione continua è immettibile sul strutture R e la funzione immersa è y uguale logaritmo di y Uno potrebbe obiettare ma tu hai appena dimostrato l'invertibilità di questa funzione sugli intervalli chiusi E vabbè, però R, per esempio, prendiamo l'intervallo meno mm Allora, questo intervallo diventa da questa parte Allora, questo pezzo qui di funzione tra e alla meno m e e alla m è definito e continuo ed è l'inversa di quella lì Cioè la funzione Allora, se io prendo qui l'intervallo meno mm io so che questa funzione è continua so che è monotona è continua, è strettamente crescente e continua sul tutto m Questo l'abbiamo visto prima Allora, se mi fisso su un intervallo meno mm, per esempio Allora, posso dire che se cancello il resto del grafico questa funzione è invertibile Invertibile dove è sulla sua immagine cioè tra e alla meno m ed e alla m tra e alla meno m ed e alla m qua è e alla meno m Allora, in questo caso la funzione logaritmo sappiamo che è continua ed è l'inversa di quella di prima tra e alla meno m ed e alla m Tuttavia, questo discorso lo posso ripetere per ogni m e fare l'unione su tutti gli m Quando vado a fare l'unione su tutti gli m? Qua ottengo tutto r e qua cosa ottengo? Non ottengo tutto r perché l'immagine della funzione esponenziale non era tutto r però ottengo se io faccio l'unione per m, per esempio, appartenente a m dell'intervallo che va da e alla meno m ad e alla m cosa otterrò? otterrò la finestra aperta a 0 più infinito perché alla meno m quando m tende a più infinito si avvicina a 0 ma non lo raggiunge mai e questo qua quando m tende a più infinito si avvicina a infinito diverge a più infinito quindi cosa posso dire? ragionando per la mia m poi mettendo tutte le informazioni insieme io ottengo che la funzione f va da x va da x ed è la funzione esponenziale si scrive exp di x oppure e alla x la funzione f a meno 1 cosa fa? prende y e calcola il logaritmo di x logaritmo naturale in base a e ovviamente se la funzione f a meno 1 la vogliamo calcolare in x allora qua ci dobbiamo mettere x e qua ci dobbiamo mettere x ripeto la variabile di una funzione è muta cioè io posso usare per indicare una funzione esponenziale logaritmo eccetera posso indicare la variabile indipendente con un polaritmo che mi pare x, y, t, s però se vogliamo farne il grafico allora per farne il grafico indichiamo sempre qui la variabile con la x e da quest'altra parte ci mettiamo x uguale a f f in questo caso a meno 1 di x cioè l'immersa della funzione esponenziale l'immersa della funzione esponenziale è la funzione logaritmo ovviamente qui x stava in r qui invece y che poi diventa x sta tra 0 e più l'infinito chiaro? quindi non c'è nulla di difficile da capire è chiaro che il teorema precedente noi lo potremmo dimostrare solo tra intervalli chiusi perché le ipotesi dovevano giocare in ruolo però si capisce bene che applicando quel teorema in maniera molto semplice l'immersa di questa e questa questa è continua questa è continua quindi logaritmo è una funzione continua dove? sul suo dominio tra 0 e più v una situazione simile parzialmente simile la possiamo avere per esempio se io vado a disegnare il grafico della funzione tangente tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi x uguale tangente di x x compreso tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi adesso noi vogliamo fare l'immessa di questa funzione stavolta avremo qua la tangente però la x la prendiamo soltanto quindi non è la tangente tutta il grafico è la funzione tangente ristretta all'intervallo meno pi greco mezzi e pi greco mezzi la funzione immessa sarà la funzione arco tangente di x oppure e y la parterà a tutto e anche qui x parterà a tutto e se lo vogliamo chiamare x che è la funzione immessa siamo all'arco tangente di x perché intanto facciamo nel grafico della funzione immessa questa è la funzione immessa non è la funzione in partenza non è definita sull'intervallo chiuso però uno può sempre ragionare sull'intervallo chiuso per esempio può ragionare sull'intervallo che sia meno pi greco mezzi più epsido pi greco mezzi meno epsido fissa un epsido positivo può ragionare sull'intervallo questo intervallo come viene trasformato viene trasformato in l'intervallo tangente di meno pi greco mezzi più epsido meno pi greco mezzi più epsido e da quest'altra parte tangente di pi greco mezzi meno epsido e da quest'altra parte viene pi greco mezzi meno epsido pi greco mezzi quindi ottengo alla fine alla fine quando faccio tutto il dominio della tangente ristretta dove la volevo voluta restringere dall'altra parte però quando epsido tende a 0 da destra vedete che tangente di pi greco mezzi da sinistra tende a più infinito così quest'altro qui che riguarda l'opposto di quello qui tenderà a meno infinito quindi quando faccio l'unione qua ottengo tutto r quindi ragionando intervallo per intervallo e facendo l'unione cosa scopriamo? che se prendo la funzione tangente ristretta all'intervallo meno pi greco mezzi pi greco mezzi è una funzione continua l'immagine di quell'intervallo è tutto r e la funzione immersa che è la funzione arco tangente è una funzione continua tutto r ok? quindi questo tipo di applicazioni sono praticamente banali vanno da sé certamente se uno fa una domanda uno più o meno deve sapere dire qualcosa ma grosso modo sostanzialmente cosa abbiamo dimostrato? abbiamo dimostrato che se ha una funzione continua che diciamo su un certo dominio la funzione diciamo per essere invertibile la funzione deve essere monotona e quando vado a prendere la funzione immersa la funzione immersa che scambia dominio e dominio è monotona dello stesso tipo continua con le lezze che ovviamente è invertibile ok? questo è quello che abbiamo fatto quindi unendo tutti questi teoremi fino a che allora se io adesso vado a scrivere una funzione arco tangente del logaritmo di 1 più x quadro bravo che voglio di coseni per voi di x quadro meno 1 cosa posso dire di questa funzione? che è convinto allora dominio di questa funzione tutto è allora per fare x quadro meno 1 non c'è problema per fare coseno iperbolico scusate ho detto bene ma non ho scritto mai se è coseno si può annullare coseno iperbolico di x quadro meno 1 non si può annullare maggiore o uguale di 1 quindi il denominatore non si può annullare 1 più x quadro è un polinomio positivo maggiore o uguale di 1 logaritmo si può sempre fare poi qualunque venga il valore del logaritmo l'arco tangente di questo valore si può sempre fare questa funzione qua poi il rapporto tra due funzioni di continia è una funzione di continia grazie al fatto che sono tutte funzioni di continia grazie al fatto che il numeratore è l'arco tangente composto con logaritmo composto col polinomio di x quadro più 1 il numeratore coseno iperbolico composto col polinomio di x quadro meno 1 sono tutte funzioni di continia il rapporto è una funzione di continia si può fare dappertutto questa funzione sappiamo dire subito che è continua su tutto r lasciamo stare se poi dobbiamo fare il terapia di questa funzione un altro paio di una però possiamo subito dire che è continua chiaro? ed è definito tutto r va bene ok adesso il discorso è vogliamo capire meglio questo perché innanzitutto facciamo l'esempio di qualche funzione che non sia continuata un esempio più semplice se vi ricordate la funzione segno la funzione segno sui negativi vale meno 1 in 0 vale 0 sui positivi vale 1 non è continuata ma questa funzione qua non è continuata è monotona non decrescente però nel punto 0 il limite alla sinistra fa meno 1 il limite alla destra fa 1 nel valore della funzione è tutto il tipo di discontinuità di questa funzione se vi ricordate lo chiamiamo assalto cioè abbiamo limite per x che tende a x con 0 da sinistra di f di x uguale n1 no diverso dal limite per x che tende a x con 0 da destra di f di x che è uguale n2 e poi abbiamo che esiste f di x con 0 esiste f di x con 0 perché se no non c'è la discontinuità vi ricordate x con 0 è il secondo del dominio però quando i limiti di sinistra e destra sono diversi si dice che la discontinuità è assalto facciamo un altro esempio di funzione discontinua però con un altro tipo di discontinuità andiamo a fare la funzione f di x che vale 0 se x è uguale a 0 e seno di x su x se x è diverso ora se andate a fare il grafico di questa funzione viene fuori una cosa di questo genere ma come vedete gli zeri sono equispaziati sono pi 2p 3p 4p la funzione è pari quindi da questa parte le abbiamo stesso tipo di grafico cioè il grafico deve essere simmetrico rispetto all'asse della y però vedete cosa succede che io ci avevo messo 0 perché se avevo quel seno si annullava in punti del tipo kp allora dico divido per x e si annulleranno anche in 0 invece no invece che succede la funzione che ho messo io si annulla in 0 ma quando mi vado ad avvicinare a x che tende a 0 il limite di seno di x su x se vi ricordate l'abbiamo già dimostrato fa 1 quindi la funzione si avvicina a 1 mentre invece il coro della funzione l'ho messo a 0 allora questo tipo di situazione si dice che vabbè abbiamo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è diverso da f diciamo esiste questo limite è uguale a l chiamiamolo che però è diverso da f di x con 0 allora questa qua si chiama discontinuità eliminabile eliminabile sottolinea il fatto che vabbè quale 0 cioè tu modifica questo valore qua lo metti a 1 non ha la funzione che diventa così come dire ti sei sbagliato correggio la nata e farla diventa continua se la vuoi continua se la vuoi continua puoi eliminare la discontinuità cambiando il valore solo nel conto di x con 0 chiaro? questo è il tipo di discontinuità è un tipo di discontinuità che si vuole togliere modificando però il valore della funzione con 0 abbiamo poi un terzo tipo di discontinuità andiamo a prendere per esempio la funzione f di x uguale a 0 nel punto 0 e seno di 1 su x per x diverso da 2 andiamo a fare il grafico di questa ulteriore funzione lo facciamo qua il grafico di questa funzione non lo farò in granché bene perché è difficile farlo bene il grafico di questa funzione fa fa così qua siamo da meno 1 e 1 uscilla infinite volte prima di arrivare al centro se lo facciamo dall'altra parte il grafico ovviamente questa funzione è dispari perché se io ci metto meno x al posto di x il valore della funzione cambia segno le funzioni dispari hanno un grafico simmetrico rispetto all'origine non simmetrico rispetto all'asse y e quindi qua mi verrà qualcosa questo qua ribaltato rispetto a lui girato di 180 gradi preferito i punti di meno sono tutti quanti dove la funzione vale meno 1 i punti di massa non so dove la funzione vale meno 1 allora qua che cosa succede? succede che se io vado a fare il limite per x che tende a 0 di seno di 1 su x cosa possiamo dire di questo limite secondo voi? quanto fa? questo limite non esiste come si fa a dimostrare che non esiste? allora io prendo per esempio x con n uguale 1 su y n seno di 1 su x con n fa seno di pi greco n che fa 0 per la mia n cioè che cosa ho trovato? ho trovato una successione di punti che si avvicinano a 0 su cui la funzione in questione vale sempre 0 poi vado a prendere un'altra successione di punti partivo qua faccio per esempio x con n uguale 1 su 2 pi greco n più pi greco mezzi la chiamo x primo n se vado a fare chiamiamola t con n se vado a fare seno di 1 su t con n cosa mi viene? mi viene seno di pi greco mezzi più 2 pi greco n mi fa sempre 1 e se nel periodo di periodo 2 pi greco a pi greco mezzi praticamente sarebbero questi punti dove la funzione vale 1 ok? almeno stiamo andando da destra però che che cosa ho trovato? cioè ho trovato due successioni questa che tende a 0 da destra e questa pure che tende a 0 da destra sulle quali la mia funzione su questi punti va 0 su questi punti va 1 su altri punti potremmo vedere che va a meno 1 su altri punti va a un mezzo e allora che cosa significa? che il limite non ci può essere perché se vi ricordate il teorema ponte affinché esistesse il limite in un punto ci voleva che ogni volta che mi avvicinavo a quel punto con una successione f di x con n f di x con n deve convergere a l ma qua f di x con n converge x con n va a 0 f di x con n converge a 0 t con n va a 0 f di t con n va a 1 e quindi non è possibile che esista il limite quindi questo limite qua non esiste poi ovviamente in 0 ci devo mettere un valore però stavolta non cambia perché ci mettete 0 ci mettete 1 ci mettete 7 ci mettete 50 ci mettete 2000 la funzione sarà sempre discontinua perché? perché il limite in 0 non ci sta proprio ok? allora qua potete cambiare valore e rendere la funzione continua qua lo stesso non potete fare niente però se io metto il valore uguale a meno 1 e mi dimentico del pezzo di destra da sinistra diventa continua solo a sinistra oppure se metto il valore uguale a 1 lo posso almeno pareggiare con il limite destro quindi posso rendere la continua da sinistra o da destra cambiando questo valore qua invece non posso fare niente allora questi tre tipi di discontinuità hanno nomi diversi questa si chiama discontinuità eliminabile se la vuoi continua prendi questo valore e metti uguale a 1 questa si chiama discontinuità a salto ci sta un salto il limite da sinistra è diverso dal limite da destra se vuoi vuoi aggiustare uno dei due ma sicuramente non tutte e due questa si chiama f in 0 a 1 discontinuità essenziale 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 che ci posso fare niente qualunque sia il valore che io voglio dare in 0 la funzione rimarrà sempre discontinua quindi i casi sono tre discontinuità eliminabile esiste il limite f di x con 0 è diverso da 3 discontinuità a salto il limite sinistro e il limite destro sono diversi f di x con 0 fa quello che gli pare ma non può essere uguale a tutti discontinuità essenziale il limite non ci sta però f di x con 0 fa quello che gli pare ma non ci posso fare niente che lì è chiaro? quindi quando vi chiedo prima di tutto se questa non la definisco in 0 questa è continua dove? per la funzione dei composti di due funzioni è continua nel suo dominio cioè in r-z cioè se togliamo da mezzo il punto 0 gli altri punti la funzione è continua però appena la definisca in 0 la funzione non è più in 0 ha una discontinuità essenziale però ci devo prima definire la funzione chiara? bene ora quando uno vi chiede se una funzione è discontinua o discontinua appena verificate che la funzione sia definita nel punto poi nel momento in cui è definita nel punto se è discontinua uno vuole sapere se la discontinuità è eliminata assalto o essenziale non è che vuole sapere altro ovviamente essendo i tre casi molti testi soprattutto le superiore prima specie seconda specie terza specie in genere questa è la prima specie quella è la seconda specie questa è la terza specie però se poi trovi un libro che mischia le carte in tavola e invece se ci dai il loro nome oltretutto dice il libro potrebbe aver scritto bene però quando ti dava a chiedere qual è la prima specie ti confondi tu e me le dici tu ma e quindi è chiaro? preferisco dove è possibile eliminare riferimenti non necessari è così facile quello è eliminato questo è assalto e questo è essenziale altro non c'è assalto anche qui non esiste il limite perché il limite è diverso dal limite sinistra però esiste il limite sinistra e destra quindi attenzione perché uno dice ma anche qua non esiste il limite sì però ci sta il limite sinistra e il limite destra e il limite destra ok adesso vogliamo cercare di andare oltre vediamo quanti minuti abbiamo fino alla tavola poi ci abbiamo un altro quindi adesso noi sappiamo che tutte quelle funzioni di cui abbiamo elementari di cui abbiamo ripassato i grafici delle settimane scorse sappiamo bene che sono tutte continue però non basta in realtà quelle funzioni tipicamente sono qualcosa più che continue perché prendete questa funzione qua f di x uguale valore assoluto di x questa è una funzione in cui il grafico si fa facilissimamente ma non l'abbiamo particolarmente ripassata è continua questa funzione? certo che è continua l'unico punto dove ci potrebbero essere dubbi qua la funzione è uguale a x su tutti i positivi e continui qua la funzione è uguale a meno x che è una funzione continua ovviamente su tutti i negativi l'unico punto dove ci potrebbero essere dubbi è il punto 0 il punto 0 noi sappiamo che il valore assoluto fa 0 ma se faccio il limite da sinistra limite per x che tende a 0 a sinistra di meno x x fa 0 il limite per x che tende a 0 dall'esco di x fa 0 quindi io so quindi il limite per x che tende a 0 del valore assoluto di x è uguale a 0 è uguale al valore assoluto di 0 quindi la funzione è continua pure nel punto 0 chiaro? quindi il problema non ce l'estate però questa funzione rispetto alle altre ha un grafico che ha una particolarità qui ci sta un punto che vedremo poi chiamare un punto angoloso un'altra funzione possiamo chiamare questa è una delle funzioni di cui abbiamo ripassato il terapio per esempio rendiamo la funzione a coseno allora qua si è andata la meno pi greco meno la meno uno scusate è uno e qua la funzione meno uno vale meno pi greco meno la funzione in uno vale pi greco meno ok? anche questa funzione non è proprio come le altre vedete in questo punto c'è il valore o anche per esempio anche la funzione della radice di x radice quadrati allora voi sapevate che la funzione x quadro la funzione di cui questa è immessa aveva in zero uno zero doppio in qualche modo per la funzione x quadro l'asse x è la tangente dal grafico perché quando andavo a fare l'intersezione di x quadro con l'asse x x quadro uguale a zero viene x uguale a zero la radice e le equazioni di secondo grado sono coincidenti ok? questo che significa? significa che in qualche modo appunto quel grafico diciamo l'asse x è la tangente dal grafico che vuol dire che qua l'asse x sarà tangente dal grafico la funzione immessa esiste solo su x maggiore o uguale a zero quindi in qualche modo qui quella che diciamo il grafico ha una tangente verticale qualunque cosa voglia dire tangente non abbiamo definito anche qui succede una cosa simile cioè noi il valore della funzione nel punto 1 esiste vale pi che comezi però là diciamo in qualche modo il grafico si mette verticale ok? allora questo tipo di particolarità questa oppure il comportamento di queste funzioni in meno 1 in 1 in 0 sono un qualcosa di diverso dal comportamento delle funzioni in altri punti per esempio se io prendo questo punto qua se geometricamente voi fate la tangente a questa parabola la tangente è una funzione cioè è il telapico di una funzione è una retta mentre le rette verticali perché non ci piacciono perché non sono grafici di funzione qua invece la tangente è una retta è la retta stessa quindi qua geometricamente qua abbiamo un paradosso perché di tangente in questo punto è come se ne avessimo due perché una è prolungare la retta di sinistra e l'altra è prolungare la retta di destra allora come insomma possiamo intuire che ci sono e queste sono tutte funzioni di continuo quindi possiamo intuire che oltre la continuità se vogliamo andare a analizzare meglio il comportamento della funzione si può cercare di andare oltre adesso abbiamo fatto un ragionamento di tipo geometrico andiamo a fare un ragionamento di tipo algebrico anzi analitico se f continua in x con 0 cosa significa? se solo se f di x è uguale a f di x con 0 più o piccolo di 1 per x per t ok che significa? significa che io fisso x con 0 allora c'ho f di x con 0 questo è f di x con 0 la dici è uguale a x con 0 in questo caso e beh se faccio tendere x e x con 0 ovviamente f di x tende a f di x con 0 che vuol dire che la differenza f di x meno f di x con 0 tende a 0 tutto quello che tende a 0 lo scriviamo o piccolo di 1 se vi ricordate o piccolo di significa una cosa diviso quello che ci sta dentro deve rendere a 0 quindi una cosa che tende a 0 se la divido per 1 vuol dire che lei tende a 0 f di x meno f di x con 0 io so che tende a 0 ma per dire che tende a 0 scrivo che è o piccolo di 1 quando x tende a 0 chiaro? ok questo sappiamo questo è quello che l'informazione che ci dà il fatto che una funzione sia continua nel punto x con 0 però questo significa geometricamente che io avevo questo valore costante e la differenza tra il valore della funzione e il valore costante so che mano a mano che mi avvicina a x con 0 e la tende a 0 facciamo un ingrandimento puoi vedere qua allora e questo è il valore costante allora vedi che tu tra il valore della funzione e il valore della costante questa quantità quando è vicino a x con 0 tende a 0 però guarda la differenza rispetto a quest'altra rispetto a quest'altra retta ora da una parte uno dice vabbè questa è un po' più grande ma non neanche di tanto eh no aspetta però quando ti avvicino a x con 0 questa guardate va a 0 ma e ancora si vede questa qua praticamente scompare ok cioè andiamo a fare un ragionamento di tipo analitico allora io posso dire prendiamo la funzione seno nel punto 0 allora io posso dire che seno di x è uguale a seno di 0 più o piccolo di 1 per x che tende a 0 sarebbe a dire seno di x è uguale a o piccolo di 1 per x che tende a 0 questa informazione viene dal fatto che la funzione seno incontinua in 0 questa è funzione continua f di x uguale a f di x con 0 più una quantità infinita però noi abbiamo visto l'altro ieri come esercizio che il limite per x che tende a 0 di seno di x su x vale 1 quindi posso anche scrivere che seno di x su x vale 1 più o piccolo di 1 per x che tende a 0 posso anche scrivere che seno di x moltiplicato per x è uguale a x più o piccolo di x sempre per x che tende a 0 ora secondo voi qual è l'informazione che mi da di più questa o questa quella di sopra o quella di sotto qual è più precisa quella di sotto questa non questo qua è chiaro che ho piccolo di 1 perché questo tende a 0 questo tende a 0 o piccolo di 1 più piccolo di 1 o piccolo di 1 qua però c'è scritto che è un certo infinitesimo ben preciso è x non 2x 3x e x ma è x non x quadro ma x quindi qua c'è l'ordine dell'infinitesimo 1 la costante che c'è davanti è pure 1 e poi ci sono altri infinitesimi per correggere questa cosa ma che sono di ordine superiore ancora dobbiamo dare tutte le definizioni precise sugli infinitesimi però più o meno martedì l'avamo capito quindi questa informazione è rosa questa informazione è più sofisticata allora vediamo se io riesco a codificare questa informazione da un punto di vista già meno qual è l'informazione che mi aspetto in generale allora qua ho un grado io riduzzo qua c'è x con 0 e qua c'è x allora il tipo di informazione che vado cercando è legato alla conoscenza di quella che chiameremo retta tangente al grafico allora in certi casi sappiamo che cos'è la retta tangente al grafico se questa fosse una parabola sappiamo che si fa la parabola si prendono tutte si prendono un fascio di retta per un punto si fa vedere qual è quella retta che ha un solo punto di contatto con la parola ok perché normalmente le intersezioni ce ne sono 0 2 2 però quella è una funzione di tipo particolare bisognerà capire questa nozione di retta tangente nel caso generale però allora qual è l'informazione che mi aspetto l'informazione è che se io mi vado a mettere vicino a x vicino a x con 0 e voglio calcolare f di x f di x come la posso scrivere? la posso scrivere come f di x con 0 più un certo numero m chi sarà m? sarà il coefficiente angolare di questa retta qua questa qua se y è uguale mx più m scusate questa qui è uguale a mx per x con 0 più f di x con 0 perché x con 0 ovviamente deve fare f di x con 0 ci avrà un coefficiente angolare no? il coefficiente angolare sarà ripeto se non è verticale se è verticale il coefficiente angolare non c'è perché la retta è verticale allora se ha il coefficiente angolare allora la retta si scrive così m è il coefficiente angolare m è x più costante poi nel punto x con 0 x con 0 x con 0 fa 0 questo pezzo non c'è e deve fare f di x con 0 allora cosa mi aspetto io? io mi aspetto che la differenza questa questa chiamiamola r di x la differenza tra f di x e r di x certo va a 0 vedete la differenza tra f di x e la retta tangente va a 0 quando mi avvicino ma non ha 0 e basta guardate qui qui c'è x meno x con 0 e qui c'è il delta tra la retta e la funzione vedete questo rapporto sarà maggiore di un terzo fatelo qua vedete che è sceso parecchio sarà un sesto ovvio se lo vado a fare qua io questo pezzo qui cioè la differenza tra f di x con 0 e il valore della retta lo vedo ancora ma la differenza tra il valore della funzione e il valore della retta non lo vedo più quindi io cosa mi aspetto mi aspetto che questo sia un infinitesimo poi naturalmente dovremmo vedere quando se e come lo sarà di chi? di x meno x con 0 chi è x meno x con 0? x meno x con 0 è l'infinitesimo di riferimento in 0 era x perché questa quantità era x qua quando io mi sposto da x con 0 questa quantità lo spostamento da x con 0 non è x è x meno x con 0 che infatti x meno x con 0 tende a 0 quando x tende a x con 0 cioè c'è una traslazione di meno e quindi per x che tende a x con 0 io mi aspetto che la differenza tra il valore della funzione e il valore della retta tangente sia di questo abbia questa caratteristica questo è sicuramente vero se per esempio il grafico della mia funzione è una parabola io faccio la tangente in modo usuale e vedo faccio i conti e vedo che è così però io vorrei dire io prendo un grafico qualunque magari ci sta una retta che ha questa proprietà magari ce ne stanno due magari non ce ne sta nessuno allora quello che a questo punto se io ho questa informazione come posso scrivere f di x? posso scriverla andando a sostituire f di x con 0 più m x meno x con 0 più o piccolo di x meno x con 0 ora questa informazione è sicuramente meglio di quella che avevo prima che era f di x uguale a f di x con 0 più o piccolo di 1 questa è quella che viene dalla continuità questa è più precisa di questa che è esattamente la stessa informazione che abbiamo qua seno di x seno di x di 0 fa 0 poi abbiamo una m che vale 1 in questo caso per x meno 0 che vale x più o piccolo di x meno x con 0 è un caso molto semplice però l'informazione che sta scritta qua è esattamente analoga di questa ok? quindi io dico magari magari succede se succede una cosa del genere e vedremo quando succederà quando la funzione quando succederà questo vedremo la funzione derivabile secondo voi cosa è meglio avere una funzione continua o una funzione derivabile? cioè cosa mi dà l'informazione più precisa? quando è? derivabile allora è meglio derivabile quindi se è derivabile vedremo che sarà anche continua ma se è continua non è detto che sarà derivabile per esempio in quei casi di prima in quei casi di prima la funzione vedete se io qua qual è la letta tangente? se prendo questa letta qua non va bene da questa parte se prendo questa letta qua non va bene da quest'altra parte se prendo questa letta qua non va bene da nessuna delle due parti qua qual è la letta tangente? qua diciamo se andassimo a fare la tangente da un punto di vista geometrico ci accoggeriamo e deve essere verticale se prendiamo mettiamo se prendiamo un fascio di letta e passa per questo punto l'unica letta che tocca una sola volta diciamo queste qua questa letta qua pure tocca una sola volta ma non conta perché sulle altre rette ho due intersezioni e comunque l'unica su nessuna retta ottengo una scrittura di questo punto su nessuna retta quindi perché l'altra retta è verticale la tangente chiaro? ok quindi questo è il nostro scopo per arrivare a questo scopo dobbiamo costruire bene questo concetto quindi costruire sia la definizione algebrica che ci porterà alla derivabilità che poi vedremo in molti casi già l'abbiamo fatta perché in molti casi la derivabilità deriva esattamente da limiti notevoli che abbiamo fatto ok e poi però senza dimenticarsi della controparte non c'è mai algebrica ok pausa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti